se mi incontrate per la strada seduto su un paracaro che scorro la testa così avete visto così non dite che col mal della nonna come i deseva o che sono diventato demente no non so più che cosa pensare della politica italiana io posso solamente scuotere la testa e dire non so non capisco più niente non capisco più niente perché la cosa che mi lascia stupefatto è che si vuole combattere un certo tipo di pensiero politico quale non so diciamo di destra di destra allora la destra bisogna da chi la destra la destra boh non lo so allora io mi domando ma se io devo combattere la destra mi divido o mi metto insieme e cerco di fare un'unione per combattere la destra ma Renzi non ha fatto cose di sinistra ma allora vogliamo guardarci nelle palle degli occhi e dirci che cosa è di sinistra e che cosa è di destra e cominciamo allora cosa diceva la destra bisogna privatizzare il mercato la libera concorrenza quello che è statale per l'amor di dio la burocrazia non si parla bisogna unificare le polizie non si può andare avanti con carabinieri di polizia guardia le finanze eccetera un disastro generale le regioni o bisogna a un certo momento fare cosa diceva la sinistra no momento ragazzi bisogna nazionalizzare la salute bisogna nazionalizzare l'energia elettrica bisogna nazionalizzare le scarpe bisogna nazionalizzare le farmacie e dove sto passo questo dicevano oggi oggi ditemi che cosa dicono tutti la stessa roba anche la sinistra parla di libero mercato e ha privatizzato niente po po di meno che la team hanno creato un carosone che vi dico le poste casino che non si parla niente perché hanno rovinato tutto e allora di cosa parliamo cose che differenza che ha non è una cosa di sinistra allora c'era questo partito democratico in certo momento per chi non lo sapesse dei giovani ma sono pochi giovani che ci guardano perché questi due sviolinatori dovete sapere quel galas e quello lì mi parlano ma le persone che mi fermano non ho trovato una di sotto dei 50 anni tutto vecciotte però dottore il vedo che piazzegno vedono la televisione ma il discorso bersante ma giovani che mi abbiano fermato mi hanno detto sa la manini sono d'accordo con quello che diceva io manco uno manco uno perché i giovani non guardano la televisione allora il problema si presenta nel momento in cui uno dice ma io con chi mi schiero allora il partito democratico è nato perché due partiti volevo toperare un termine che era il pipa culo ma l'ho detto ma se vuole lo tagli anche gli ha preso il pipa culo detto a Montrentino quando c'è stata le mani pulite allora la democrazia cristiana ha detto ah stiamo amore di Dio cambiando nome perché credevano che cambiando nome capisci tutte le vacate che erano state fatte prima si sarebbero state cancellate la stessa i socialisti socialdemocratico tutti i nomi possibili immaginabili che cosa è successo nella realtà che un grande pastitazzo e allora tutti quei desideri sinistra di un certo tipo della democrazia cristiana e tutti di sinistra di un certo tipo che non erano comunisti ma non erano neanche socialisti ma forse erano socialdemocratici ma forse erano di sinistra ma che avevano simpatia di destra e quelli di destra che forse avevano simpatia di sinistra un casino anzi non dico neanche casino perché nei casini che era pu ordine tanto per parlare e quindi c'è stata una confusione enorme e hanno fatto il partito democratico che doveva combattere la destra e anche lì è successo un pasticcio perché hanno incominciato tutto il gruppo che c'era dentro ha cominciato a dire che non fa cose di sinistra che Renzi non fa cose di sinistra esodo questo passo poi che cosa è successo invece che rimanere tutti nel partito perché nella democrazia cristiana e nel partito comunista a me mi viene da ridere quando vento D'Alema che dice che Renzi ha fatto il dittatore e che a un certo momento bisogna colloquiare ci vuole il partito di tutti ma dove caro D'Alema che quando tu eri in Russia e quando eri comunista dovevate votare nero se l'era bianco quando il partito diceva se vota nero ma l'è bianco votate nero e i comunisti votavano nero anche se l'era bianco D'Alema D'Alema Bersani le viene un po' dopo ma D'Alema ha fatto la scuola in Russia no a Napoli no e quindi D'Alema non può venire a parlare che non c'è la collaborazione che bisogna colloquiare che bisogna qui che bisogna là e hanno incominciato attaccare Renzi poi Renzi siccome non aveva tutti i voti a destra cioè a sinistra perché Ias cominciava vendola per inverso quell'altro perché non feceva roba di sinistra e a forza di dire che non fa cose di sinistra quale è stato il risultato vedrete è cominciato il momento 5 stelle ha incominciato la Lega ha incominciato partiti che probabilmente non si sarebbero neanche fermi dati se la partito democratico fosse rimasto unito insieme discutendo parlando magari anche su cose ma hanno discusso perché era antipatico Renzi quello che emerge cioè io almeno non lo so gli altri io ho l'impressione che qui si tratti Renzi sì o Renzi no non so mi no allora questo Renzi un certo momento fa questo referendum che forse io ho votato sì Tanti ha votato no ma non hanno votato no perché avevano letto che cosa c'era nella Costituzione solo sto imbecille che parla con voi e il Parisi che l'è lì hanno letto tutto il testo 350 pagine solo io probabilmente in trettino non voglio dire che sia stato l'unico ma guarda che sia stato l'unico poco ci cala poco ci cala e hanno votato no non perché la Costituzione ma neanche per idea perché Renzi è un dittatore perché Renzi di chi perché Renzi di là perché non fa roba di sinistra perché bisogna fare cose di sinistra boh quindi se no non cosa vuol dire fare cose di sinistra boh al giorno d'oggi non lo so non bisogna avaliarsi con Verdini probabilmente avevano anche ragione non dico di no credo però credo però che un partito forte che voglia cambiare alcune cose del paese bisogna che rimanga un partito forte e se ci sono cose che non vanno si inghiottono per un periodo di tempo e non potete non può un partito che in una riunione con 107 voti a favore e 15 contrari pretendere che i 15 contrari siano come i 107 no 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 e no e allora le scienze che naturalmente le identifico in Bersani e in D'Alema hanno detto no qui non si può stare non si fanno cose di sinistra bisogna uscire per il bacco sono usciti escono risultato vedrete qual è il risultato il risultato sarà che loro dicono che bisogna che in questa maniera Renzi ha favorito la destra loro uscendo favoriscono chi? i 5 stelle no la destra no sarà il 5 stelle che emergerà perché la destra è finita sottolineato Berlusconi mi mi dispiace che ho votato per Berlusconi ma Berlusconi è un uomo finito niente da fare secondo parere mio quindi Berlusconi è fuori gioco e chi è di destra? chi è che è di destra? Salvini è di destra ma mi hai batto via qualcosa di velmi se l'è di destra Salvini non è un uomo di destra Salvini è un uomo del nord e poi sapete c'è una cosa che a Mino ne va nessun esore questi politici quando parlano del diritto di cittadinanza allora noi che siamo in Trentino posso pormi una domanda ma se facciamo il diritto di cittadinanza ve immaginai cosa succede al mio amato sud cosa succede? dimmi Parisi è il sud il diritto di reddito di cittadinanza si beh diritto di reddito di cittadinanza e lo chiamo che è un momento di cittadinanza reddito di cittadinanza me lo sta scrivendo reddito di cittadinanza vi immaginate il reddito di cittadinanza a Napoli? vi immaginate il reddito di cittadinanza a Palermo? eh? eh? avanti io mi piacerebbe che chi mi ascolta mi rispondesse mi piacerebbe io sto parlando a una macchinetta che ha il segno rosso come per dire guarda che te li parla a Camassa finisco 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 allora il segno rosso ecco quando fa il segno rosso vuol dire che sto passando i limiti ma il reddito di cittadinanza lei è una bella roba teoricamente ce l'aveva i romani è che non crede che sia la grande scoperta perché i romani cosa facevano i signori ricchi romani siccome erano più intelligenti di noi cosa facevano a quella plebe che non aveva la mattina e si troveva alle otto in casa del signor Tamaneni di turno il quale distribuiva soldi perché la zella potesse dare torse da mangiare perché se no il mercato si sarebbe fermato parlando 3.000 anni fa o 2.500 anni fa chiaro quindi non gli ha scoperto niente però immaginate Napoli con il reddito di cittadinanza oppure magari non so a Bari o a Santa Maria di Leuca o a Ragusa o a Pozzallo reddito di cittadinanza non lavora nessuno i buttei con il reddito di cittadinanza ve lo dico a me allora il 5 stelle propone il reddito di cittadinanza propone questo propone altro probabilmente siccome la gente ne ha piene le palle di questi costruttori di dialogo questi costruttori di parole finte questi costruttori di pettegolezzo a un certo momento non sarà la destra che va al potere ma sarà il 5 stelle il quale hanno detto che loro non vogliono allearsi con nessuno che loro qui che loro la vedremo vedremo però una cosa io vi prego è che noi me parla pu qualche d'un di antifascismo antifascismo perché sennò dago i numeri che non mi parlino di antifascismo perché se magari io c'hai che il libro che sponde noccio perché il fascismo è nato così è nato così se al posto di Grillo ci fosse venito Mussolini vorrei vedere io che cosa succede vorrei vedere cosa succede e faria il colpo d'estato e zoio di restima a tutti compreso Bersani e a Cadalema tanto per non far nomi Berlusconi poveretto che forse lo risparmieria perché il campione della forza è mortale ma io credo io credo che questa situazione politica sia drammatica vista da me perché se mi chiamassero alle urne domani mattina io vi garantisco vi garantisco che non saprei per chi votare lo confesso perché Berlusconi non mi sento di votarlo Salvini non mi sento di votarlo perché io dall'Europa non esco perché questa gente a memoria corta permettete che io torni su un argomento devo tomarci quando è finita la guerra io avevo 18 anni e sapete cosa c'era macerie ma c'è ri e sottolineato le ferrovie erano distrutte le città erano distrutte una famiglia sì una famiglia no aveva un morto e tutti ci domandavamo ma per cosa abbiamo fatto tutta sta roba qui ma chi ha giovato tutta sta roba qua ma tutti i nostri morti tutti i nostri giovani che sono dati per la patria per Mussolini per cosa cosa c'è e abbiamo tirato fuori la parola Europa Europa perché abbiamo pensato che bisognava mettersi tutti assieme che bisognava volersi bene che non c'era differenza tra un inglese francese tedesco che eravamo tutti in carne e ossa che eravamo gente buona che avevamo voglia di stare in pace ecco perché è nata l'Europa e tre uomini intelligenti Schumann Adenauer e De Gasperi si è sentati a un tavolo e ha detto facciamo l'Europa è andata male non è l'Europa giusta è un'Europa che non va bene pronti sedetevi a un tavolo ma non distruggiamo l'Europa Salvini io quando giravo con la lira non la voleva nessuno ditemi io devo andare coi traversè se i traversè e coi dollari io da anni viaggio e nessuno vuole né dollari né traversè né lire ma vogliono euro solo sono stato recentemente in Norvegia ve lo dico in Norvegia che hanno la loro moneta e voleva l'euro allora non funzionerà non sono qua a dire che va tutto bene per l'amor di dio ma non andiamo via dall'Europa Salvini e allora Salvini non posso votarlo perché fuori dall'Europa non ci vado movimento 5 stelle mi fa simpatia mi fa simpatia perché vedo questo di Maio vedo questo questo di Stefano come se c'è di Battista vedo gente con entusiasmo vedo gente giovane che mi piace però mi sembrano non so mi sembrano un po' sproveduti mi sembra un po' sai governare non non è una cosa così facile e il PD me trovo nelle situazioni che carenze mi aracca simpatico ma sapete perché è stato rovinato Renzi ma sicuro perché era simpatico Gualtamanini che l'è di destra e che era simpatico addirittura credo Berlusconi che l'è di destra e allora e allora siccome quando ha fatto effetto è andato via se n'è andato e a dire meno male l'Ena però aveva detto aveva detto che lui non si sarebbe più presentato e che avrebbe abbandonato la politica vero però Bismarck è stato un grande statista diceva che solo gli asini non cambiano di pensiero allora probabilmente quando si è ritirato lui avrebbe voluto anche ritirarsi dalla politica penso a Renti certamente però dopo sai gli amici contro amici la moglie i fioi il partito stesso e i suoi e gli amici che ti hai perso lì ma insomma hai tutto di seguati ancora ma vale la pena che tu forse rimanga ancora in competizione e ci ha ripensato allora cosa poteva fare la magistratura? Ha pensato di andare in soccorso di quelli che non volevano Renzi e sono andati a tirar fuori un problema che è di due anni fa sono andati a tirar fuori che il papà di Renzi avrebbe eccetera 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 e allora siccome in questo paese ragazzi basta che uno gli dica che gli ha un avviso di garanzia o quel che l'è perché è fregato perché domani Carlo Tamanini e dove se ci ha parlato un avviso di garanzia perché ho parlato insieme all'Arcese perché sono amico di Arcese perché l'Arcese è me simpatico dove abbiamo l'Arcese e il Van Galera e mi che sono amico dell'Arcese e mi sputano e mi dice eh Tamanini è amico dell'Arcese e Arcese in Galera quindi è tutto costruito questo mi fa male perché io credo che la figura di quella Renzi sia stata simpatica non tanto forse ma perché era un uomo giovane perché era giovane perché diceva cose nuove oddio la perfezione non lo so non so era simpatico anche a quelli di destra questo è il grande danno ma in un mondo in cui non si capisce più dove è la destra e la sinistra mi credo che forse un uomo giovane come Renzi forse l'era il meglio con questo chiudo salve e pronti per la rivoluzione perché ha detto di Michalaznikov che è fortuna di Michalaznikov salve ragazzi buongiorno